Start, two, one, instant mission and liftoff! Che dire, premetto che non so giocare questo titolo ma mi ha piacevolmente stupito perché primo avevo visto i gameplay su altri canali insomma, ma soprattutto mi ha stupito per quanto sia hardcore a livello di sopravvivenza. Questo video non vuole insegnare assolutamente nulla a proposito di questo titolo perché non lo so giocare ma vuole essere uno spunto magari per una discussione con qualcuno di voi, con chi conosce il gioco, con chi vuole consigliarmi, con chi magari vuole dirmi che cosa ne pensa di questo titolo. Il gioco ha la componente online che la fa assolutamente da padrona perché potete andare a unirvi a server ufficiali o non ufficiali ed è la base del gioco, questa è la premessa ma io scrissi tempo fa sulla pagina delle discussioni a proposito di questo titolo e tanti mi consigliarono che comunque non era male neanche in single player che era veramente la parte che mi interessava. Qua vedete il mio personaggio che segue il mouse ed è vestito abbastanza bene ma sta sanguinando copiosamente, infatti è a un passo dalla morte, non intendo tenerlo ma intendo creare un nuovo personaggio. Ora, ho dovuto censurare e evitare qualsiasi tipo di problema col tubo ma in pratica potete togliere sia uomo che donna. Allora, in pratica potete scegliere dei punteggi, adesso io non vi spiego, vi faccio vedere rapidamente, potete andare ad abbassare una piuttosto che l'altra, anche se abbasso la destrezza di mezzo punto, la metto più alla forza, un'altra si poteva scegliere anche l'età. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti e qua possiamo andare con i punti che abbiamo segnato prima, ci vengono date degli skill point che possiamo andare a dare. Vedete che spendendo un tot di punti, un punto intero, possiamo salire di abilità fino a diventare, ad esempio in questo caso per controlla la forza, avanzati, medium avanzati. Questo influenza la nostra abilità di combattimento ma anche la capacità di craftare cose. Adesso io voglio fare, non lo so, brawling che sarebbe il combattimento, poi vedete che con la costituzione possiamo andare ad aumentare magari di un paio di punti, facciamo la durata, diciamo la resistenza e la corsa, mentre invece sulla destrezza, di cui ho 5 punti, posso mettere l'abilità per guidare, demolizione, gettare, guidare la motocicletta, fare lo stealth, io butto tutto in stealth. C'è anche addirittura, pensate, l'aviazione che praticamente con le ultime patch si può anche volare, si possono prendere degli aerei. Mentre invece in intelligenza posso mettere survival, che mi sblocca più ricette di crafting, il camuffamento e così via. Abbiamo ancora punti per ora, posso mettere t-ray, un punticino lì e mettiamo, ne mettiamo uno in più in survival. No, non mi basta. Facciamo allora medical, medical che può essere molto utile. E poi man mano faremo le azioni andremo a potenziarle. Ma la cosa che mi ha veramente incuriosito è il fatto che la sensazione di supervivenza è veramente accentuata. Siamo in pratica dei detenuti che vengono messi in questa sorta di battle royale, infatti online dovete anche fronteggiare su una mappa assolutamente immensa gli altri giocatori, ma in questo caso giocherò da solo. Da solo contro animali e contro i puppets, li chiamano così. In pratica è una sorta di zombie che corrono, saltano e fanno veramente molto male. Ok. L'inizio avviene così, un po' come succede su Warzone e soprattutto PUBG. si scende col paracadute. La sfortuna vuole che stiamo scendendo qui in questa zona innevata e probabilmente non abbiamo nemmeno l'abbigliamento adatto a poter sostenere queste temperature. Quindi quello che faremo adesso è entrare subito in una casa, cercare qualcosa e poi vi mostrerò com'è la sopravvivenza in foresta. Non vi insegno nulla, ma voglio solo farvi vedere quanto mi ha stupito il gioco, farvi vedere anche quanto è complesso. Ovviamente tenete conto che lo sto giocando in single player, quindi in multiplayer è molto molto più complesso perché dovete anche fronteggiare gli altri. La mappa è enorme e per capire dove state andando dovete guardare semplicemente dove si sta muovendo perché non avete alcun riferimento. Molto importante recuperare dei massi, vedete che guardandovi per terra potete recuperare cose. Io mi tengo buona questa struttura, ma non mi fido molto adesso e preferisco andare nella foresta perché vi voglio far vedere una cosa. Intanto vedete che abbiamo delle palle di neve, di cui non me ne faccio niente, però ho preso palle di neve, non so perché, le butto a terra. Qua ci dà quello che abbiamo nelle nostre immediate vicinanze. avete da vedere appunto lo zaino. Lo zaino che non avete, ma vi faccio vedere quanto è complesso. Avete le maglie. Ah, stavolta mi ha fatto partire con un berretto, con la maglia apposta perché ci ha buttato giù nella zona congelata. In realtà se partite in mezzo avete solo una sottomaglia, una canottiera, in pratica una maglia, i pantaloni e le scarpe. Quindi in questo caso è stato clemente il gioco. Ovviamente si tratta di una sorta di, non so, battle royale, di talent show dove ci buttano e in pratica se vedete avete questo che è una sorta di controllo. se ve lo togliete morite. Ok, in pratica adesso, vedete, ho una sorta di tasche per dove mettere dentro le cose ed è un gran vantaggio partire così perché se no non avete neanche questo. Quindi sono stato abbastanza fortunato. Ora vi farò vedere recuperando dei sassi. Guardandomi per terra troverò questi spot dove è possibile cercare dei sassi. Se non li vedete potete aprire questa e ve li trascinate. Cerco ancora dei sassi. Ah, ho un sasso in mano e un sasso nello zaino. Li posso mettere tutti due qua. E andando nel crafting, il crafting vi consente di craftare in questo caso un coltello di pietra. Il coltello di pietra è molto importante per fare le nostre prime operazioni. Mi sono allontanato dalla zona innevata perché dovrò rompere dei vestiti. Adesso vedete ho la vicinanza, quindi ho per terra, mi ha buttato per terra che è qua, il coltello. Me lo metto in mano. Il tutorial, che è un minimo tutorial che ci dà all'inizio, la possibilità di crearci la nostra prima arma, cioè una piccola lancia. E dopodiché faremo lo zaino per portarci le più cose. Dobbiamo avvicinarci uno dei cespugli e andare a tagliarlo. Una volta tagliato, otterremo dei bacchetti che in combinazione al coltello di pietra ci permetterà di fare una lancia. Vedete che qua abbiamo degli oggetti, qua nelle immediate vicinanze. Long wooden stick che non possiamo mettere nello zaino perché sono troppo grossi. Dovrebbe potercelo però fare, ok, lasciandolo per terra. Mi crafto la lancia, che poi anch'essa verrà rilasciata a terra. Dovrebbe essere... eccola qua. Posso metterla qua nelle mani, mentre invece il coltello è nello zaino, ma al tempo stesso l'ho messo nei tasti veloci, nel quick access. Quindi praticamente premendo il tasto 3 prendo il coltello, il tasto 4 prendo questo, che è molto utile all'inizio per scacciare gli zombie che troveremo lungo il percorso o gli animali. Altra cosa da fare, dovremmo recuperare... no, anzi, seguiamo esattamente quello che ci dice il tutorial, non evitare di sbagliare perché se sbagliate è la fine. Nel senso che non avete modo di recuperare e il vostro inizio di partita sarà più complesso. Allora, dobbiamo prendere l'Undershirt into rags. Ok, prendiamo la nostra maglietta Undershirt, quindi la nostra canottiera, e la tagliamo a brandelli. Porteremo dei bandelli di tessuto che saranno molto importanti per iniziare a creare la nostra... Eccoli qua. ...la nostra borsa da trasporto. Ora, dice... Taglia i pantaloni in rags. Ok, tagliamo anche i pantaloni. Pantaloni che è un peccato perché sono quelli per il freddo. Comunque facciamo anche questo. I pantaloni avevano delle tasche, quindi è un peccato. Comunque, mezzo chilo di pantaloni. Ok, abbiamo tagliato tutto. Ora, taglia due rags into stripes. Quindi i rags, la taglio a strisce. Abbiamo ottenuto sia a strisce che rags. Taglio uno dei rags in strisce. Devo averne cinque, se non sbaglio. Vediamo quanti ce ne sono a terra. Tre, quattro. Ne taglio un altro. Vedete che è tutto con clic destro e tiene conto dell'equipaggiamento che abbiamo in mano. È un survival veramente hardcore. A livello grafico, non è a livello di arma, cioè non è più a livello di un'arma, piuttosto che molto meglio di un PUBG. Però non mi dispiace, vi dico la verità. Allora, intanto, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è creare questa corda improvvisata. Craftiamo la corda, perché ormai mi ricordo più o meno che cosa mi serve. E dopodiché andremo a creare questo, che è uno zaino improvvisato da corriere. Lo facciamo usando i pezzi di stoffa che ci sono per terra e la corda che abbiamo creato e possiamo andare a fare il nostro primo zaino. Tra l'altro, tutte le cose che vedete qui dovrebbero essere di crafting di basso livello, quello a mano, senza tenere conto dei tavoli da lavoro che incontriamo. Calcolate che potete trovare macchine, moto, addirittura aerei e ognuno di essi ha parametro di stato del motore, la benzina, la batteria. Quindi è davvero interessante. Questo lo equipaggio subito. Equip. E vedete che ho lo zaino, in cui posso posizionare le cose, e prendo intanto questa. Ma al tempo stesso abbiamo un grande problema. Abbiamo il freddo, se adesso vogliamo andare su. Noi siamo qua, c'è un insediamento, ma ce n'è uno anche qua a sud. Io vorrei andare su a vedere, però non abbiamo i pantaloni. Perché è importante? Perché nel crafting, ok, abbiamo tutto, abbiamo un sacco di cose che si possono fare. Vi faccio vedere giusto per esempio fare il silver lock. Ci serve una toolbox improvvisata e un padlock e un locchetto. Ma se vogliamo fare una pistola ci serve un log di legno, dei bulloni, metal scrap, metal pipe, un coltello di pietra e del nastro adesivo. Ed è complessissimo. Ma il metacombolismo è una delle cose più complesse, perché qua abbiamo le nostre statistiche. Abbiamo qua a destra la nutrizione, quindi le calorie e l'acqua, l'energia e l'acqua, che è l'idratazione, la massa muscolare, la massa grassa. Abbiamo tutte le vitamine, tutte. Qua in basso abbiamo i nutrienti che abbiamo assorbito, la distribuzione delle masse del corpo, dall'intestino, la pelle, gli organi, il grasso e così via. Il peso, il passo che possiamo tenere in corsa e in jogging, il riposo, la stanchezza, la nostra altezza, l'età, il gruppo sanguigno, quanti denti abbiamo ancora in bocca, il volume del nostro sangue, se iniziamo a perdere ovviamente scenderà, e la temperatura corporea. Cioè, volete un survival? Questo è uno dei più profondi. Il suo peccato è che è pensato, dal mio punto di vista, per l'opinione mia, per il multiplayer. Sicuramente, in una mappa così enorme, è difficile anche incontrare qualcuno, le mappe sono, mi pare, da 64 persone, da 48, non mi ricordo. Potete giocarvelo, come sto facendo io, in single player. Ovviamente, uno scopo non c'è né nel multiplayer né nel single player, ma in sintesi bisogna sopravvivere. E per sopravvivere potete costruire anche la base, se non erano si può fare anche l'elettricità, o è una cosa che comunque aggiungeranno a breve, e quindi andare a sopravvivere il più tempo possibile contro anche gli zombie e gli animali. Usando la rotellina del mouse, un po' stile Tarkov, potete aumentare o diminuire la corsa. La cosa molto importante è che bisogna fare attenzione a ogni cosa che si fa, perché basta un attimo di disattenzione, un attimo in cui non ci fate caso e due zombie vi prendono alla sprovvista e vi colpiscono, che basta un graffio a innescare una perdita di sangue e alla morte, perché alla fine poi si muore anche abbastanza rapidamente. Ora, all'interno di questa casa non so chi c'è, io provo a entrare. Posso mettermi in stealth anche se darmi a terra. Come vedete è molto freddo, si vede intorno, intorno si stava ghiacciando la telecamera, poteva anche diventare insanguinata nel caso in cui mi fossi ferito in qualche modo. Abbiamo un tappo di vino e dei bulloni che non mi interessano al momento. Potete andare anche, se giocate in single player, a modificare dei parametri della vostra partita. Poi c'è chi è andato a modificare anche i parametri di nutrizione che alcuni ritengono anche un pochino esagerati. Però in pratica questo video lo voglio fare anche per avere un'opinione vostra di quello che pensate di questo titolo. È un'esperienza da appassionati survivalisti, non lo nego perché non è un'esperienza per tutti, però trovo geniale, geniale tutto il concetto di sopravvivenza. Un po' meno quella messa sullo stile di programma televisivo di sopravvivenza, però è complesso perché dovete anche pensare poi ai bisogni corporali, in pratica andare a fare i vostri bisogni in una siepe o meno. Ho trovato questa sorta di magazzino. Alcune volte gli oggetti vengono buttati a terra, altre volte invece vi si apre il menu. Vediamo, vediamo se trovo qualcosa. Qua c'è un tavolo, ok, qua ho trovato rugs ancora e una borsa di cemento, no? Qua dentro ho trovato anche un'arma una volta, ma... Cioè sicuramente qui c'è la soddisfazione della crescita del personaggio. Ovviamente se morite dovete recuperare la roba, partite a random in giro. In questo caso ho avuto fortuna perché ho... Allora, guardate questo zaino. E questo. E che cacchio, metto uno zaino dentro lo zaino. Posso aprirlo? No. Questa è stata una gran botta, trovare questo zaino. Lo schedaio, ok, ho trovato bulloni e carta. La carta potrebbe essere interessante, la metto via. Allora, il problema resta perché abbiamo una mancanza di pantaloni e di cibo. Quindi andiamo con calma in questa cittadina fantasma, cerco di trovare dei pantaloni sperando di non trovare zombie o puppets, come si chiamano. Una flare la prendo. Un razzo di segnalazione. Vorrei trovare dei pantaloni e magari un'arma. Un'arma un po' più bella. C'è una casa... Ci sono anche i soldi, si trovano anche i soldi, ma devo ancora capire nell'utilità. So che ci sono gli NPC. Ovviamente se qualcuno di voi lo ha giocato tanto, ama o odia questo gioco, mi faccia sapere nei commenti e mi dica che com'è, se me lo sto godendo, se è godibile anche in single player o meno. Io basandomi su quello che ho visto online, che mi hanno scritto, ragazzi, sulle discussioni su Steam, il gioco merita. C'è gente che ci ha passato una valangata di ore anche in modalità single player. del burro, che prendo, e del latte, che assolutamente prendo. Qua sta prendendo una connotazione un po' alla Tarkov, devo dire, però, vabbè. Sì, andiamo di là e vediamo cosa c'è su. No, ma ci siamo già stati, ci siamo saliti solo dall'altra. Ok, andiamo avanti e continuiamo a esplorare. Questa cittadina fantasma. Sì, non che ci sia molto da drink. Qua mi fa bere. Potrò bere? Possiamo vedere se sale il metabolismo. Se sale l'acqua. Abbiamo bevuto dell'acqua gelida, forse. Non ci ha fatto bene. E però vedete che fuori congeliamo, perché abbiamo rotto i pantaloni. Far sempre molta attenzione a entrare in questi posti. Cioè, dai, in camera, vuoi che non ci siano dei pantaloni? Devo ancora dedicarmi ci seriamente, però, dato che il gioco l'ho preso e... Mi sono preso abbastanza bene, mi sono detto, cavoli, bello questo, bello quell'altro. Ho detto, ci faccio subito un video, così almeno... Poi c'è uno spunto anche di conversazione e di discussione con chi magari lo ha giocato molto, molto più di me. Un ant, un fucile. E c'è un quad anche rotto adesso. Vediamo un attimo il fucile. Il fucile ha colpi? Potemi vedere. Ho in mano un... No, ho in mano questa, che non è... Ah, l'ho appeso dietro. Ok, vorrei metterlo qua, però, così almeno mi fate vedere se ci sono dei colpi. Sul tasto 5, eh. Ok, non ha colpi. Però potrebbe essere un negozio di armi, questo. Quindi, continuiamo a vedere, magari trovo dei colpi qui. Empty bag. Io prendo anche una borsa vuota, che non si sa mai. Qua è tutto vuoto. C'è un melone qua, una zucca. E ho trovato anche il cibo. Ora, vi faccio vedere la gestione del quad. Il quad... Potete vedere... Lo stato. Posso spingerlo, se si capovolge. Andare e metterci roba all'interno. Ehm... Però non c'era niente da poter mettere dentro. Adesso... E posso andare a guidarlo. Lo stato del quad è identificato in basso a destra con la vita, il carburante e la batteria. Al momento è messo male. Quindi il quad sta lì, sta fumando. Giustamente dovremmo avere modo di ripararlo con i giusti strumenti e la giusta esperienza a livello di, appunto, skill. Però intanto andiamo qui. Trovo anche della... No, le ho prese in mano queste, ma è una colla. Voi non avete idea, dopo aver giocato praticamente tutta la mattina, a trovare uno zaino del genere è veramente una liberazione. Pensate... Flint e Steel, ottimo per accendere il fuoco. Pensate che comunque basta un niente. Cioè, è il bello del gioco. Se sapete come sopravvivere, vi si apre un mondo. Infatti l'inizio era abbastanza deprimente, perché non avevo nulla. Vagavo in un bosco, avevo praticamente solo la tuta e basta. E ho dovuto fare a pugni con uno zombie che mi ha praticamente... Sono riuscito a stenderlo abbastanza in fretta, ma mi ha ferito una mano e questa mano ha iniziato a perdere sangue. Un'altra volta invece dove sono poi morto, perché sono sempre morto, mi hanno... Zoppicavo, non riuscivo proprio a correre. Invece qua, questo è il massimo della corsa che potete fare. Voglio rivedere se si riesce a scavalcare qui. Meno mi metto al freddo. Se avete dei dubbi se c'è per terra qualcosa, col tasto tab si apre il menu e si vede un po' alla PUBG. Alla fine graficamente gli assomiglia a PUBG. Però leggevo anche che io ho anche DayZ, che ho giocato sempre pochissimo e c'è chi lo ritiene superiore a PUBG. Ah, PUBG scusate, è a DayZ. Poi, se analizzate il fatto che questo gioco è uscito in un periodo in cui comunque andavano tanto i battle real, qualcuno di voi magari ne è saturo da questo genere, potrebbe mal giudicarlo. Ma diciamo che a me piace tantissimo quanto hanno focalizzato sulla parte di sopravvivenza. Oh, cazzo. Ehm, quattro. Vedete, adesso... C'è la rischio subito di... L'importante è non farmi colpire. E qua mi ha colpito. Ovviamente avrò bisogno di bende poi. E bisogna fare attenzione anche alla stamina. E ci vuole un po' stenderlo con questa perché il combattimento senza armi da fuoco è veramente tosto. Ok, l'abbiamo ucciso. Lo possiamo lootare. Una volta che lo lootiamo, butterà tutta la roba a terra. Quindi potremmo andare a vedere che cosa aveva. Aveva la giacca, aveva dei guanti da guida che io equipaggio subito. Avevo dei guanti di lana, ma direi che forse sono meglio i guanti di lana. E vorrei capire adesso se posso bendarmi con questo. Infatti nel metabolismo c'è... No? C'è la vita. Con quanto sangue sto perdendo. Che cos'ho? Ho un infortunio. Posso andare a trattare questi infortuni usando magari che so se è una ferita infetta dell'alcol. Comunque qua non c'è nulla di che. Però ecco, questo è quello che mi auguravo succedesse. Per farvi vedere anche un po' di combattimento. Però non è proprio una bellissima cosa perché non sto bene. E io da qui, calcolato, sono andato avanti quasi mezz'ora perdendo goccia dopo goccia e alla fine sono morto. Quindi il gioco non è assolutamente semplice. Vediamo magari se ho la fortuna di trovare qualche medicina qui. No, no item found. Non c'è niente. Quindi devo capire come potermi curare. E la cosa che mi stimola tanto è il fatto che... Combat Boots. La cosa che mi stimola tanto è il fatto di non sapere ma di essere consapevole che un modo c'è di prendere le cose che arrivano, che mi succedono, in modo più ottimizzato, più efficiente. Quindi questo mi piace molto. Carbohidrati. Questa, vabbè, è un po' pesantina come cosa. Il fatto di dover mangiare con una dieta equilibrata perché si mangia quello che si ha. Però a sapere poi come fare deve essere interessante. Intanto, l'ambientazione a me piace tantissimo comunque. L'ambientazione è enorme. Se poi volete un maggior livello di sfida ve lo giocate in online. Allora, vediamo qua nello schedario se c'è qualcosa. Niente. Qua nella scrivania niente. Entriamo qua dentro dove probabilmente moriremo perché qualcosina potrebbe essere... Uh, attenzione, attenzione, attenzione perché questa potrebbe essere la svolta. Prendo la laccetta. Accetto laccetta. Abbiamo chiodi, filo e metal scrap. Abbiamo un pezzo di gomma e basta. Queste casse sono molto interessanti. Duct tape mi serve assolutamente perché alla base di ogni crafting il fatto di dover mettere insieme delle parti degli oggetti diversi con dello scotch. Guardo anche qua dentro, che c'è niente, qua dentro... No, bolts. Bisognerebbe avere un'idea chiara di quello che si può fare e non si può fare con gli oggetti che ci sono in giro. Io al momento purtroppo non ce l'ho, quindi... Ascia 2, lascialo messa nello zaino, no, ma potrei metterla nello zaino e tenerla equipaggiata come arma principale. Quindi vedete che qua adesso, con questa accetta, dovrei tecnicamente essere in grado di buttare giù un albero. Cut down tree. Infatti posso farlo. Questa non l'avevo mai fatta, la sto facendo solo la prima volta con voi. E vediamo cosa succede. Sicuramente il mio abbigliamento non mi sta aiutando. Ok, ha buttato giù tutto e ho ottenuto queste cose. Queste cose potrebbero essermi utili per craftare una sorta di inizio di rifugio. Barbed spike trap. Che alla fine mi chiede degli chiodi. Insomma, avrei già le basi per poter fare qualcosa. Vedete un po'. Wooden platform. Wooden platform. Posso farlo? Sì. No. È una piattaforma, però non è una piattaforma per una casa. Questa è una porta, un frame, airplane door. No. Basic engineer. E non ho questa abilità. Mannaggia me. Perché poi sono anche aggiornabili. Potrei fare un allarme silenzioso? No. No. Un fireplace improvvisato. Lo crafto e lo piazzo qui. Posso piazzargli oggetti? Ma non ho gli oggetti che mi chiede, credo. Cinque secchini. Li faccio. Sto tagliando dei rametti che ci sono a terra. Cavoli, questa è una partita che è iniziata abbastanza fortunata perché lo zaino subito. E l'accetta poi mi considera abbastanza una svolta. Ok, ho trovato gli rametti che mi servono. Quindi credo di poter fare quello che mi chiedono. Wooden stick. Cavoli, se occupano spazio queste cose qui. Vediamo un po' se ci sta qua dentro. La zucca è un po' eccessiva, eh. Ok. Uno. Due. Tre. Se mangiassi la zucca. Mangia metà. Mangia metà zucca. Vediamo se sale. Cavoli, ci metto un bel po' a mangiare la zucca però. 66. Adesso non so la zucca cosa contenga esattamente ma... Vabbè, basta, dai. Non me la costruisco. Mi ha mollato l'ascia. Allora, dovrei mettere dentro queste cose. Lo stick. Perché poi andando, un'altra cosa, ultima cosa nel crafting, scegliendo un qualcosa potete tre volte usare elementi alternativi per le varie componenti. Solo alcuni. In questo caso, un wooden stick piuttosto che una long wooden stick. In altri casi, altri tipi di oggetti similari. In questo caso, metal scrap di vari tipi. Piuttosto che un martello improvvisato, una palla improvvisata, un tubo di metallo. Ci sono varie cose che possono essere utilizzate. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo scam, se lo avete giocato. Perché lo scopo di questo video non è insegnare niente a nessuno. C'è qualcuno lì. Ma uno scambio di opinioni. Uno scambio di opinioni con voi perché mi interessa moltissimo. Perché il gioco mi interessa molto. L'ho appena comprato, insomma. L'obiettivo sarebbe quello di giocarmelo un po'. Però voglio capire se... Vedete, lo scontro mi ha probabilmente portato a un passo dalla morte. Morirò probabilmente indistanguato. Ma avete capito che basta assestare bene i colpi al momento giusto. E ce la si fa, insomma. Quindi... Tactical Jacket. Vedete che l'ho equipaggiata. Ma a questo punto ho cambiato la giacca. E non ho più dentro niente. Non ho più dentro niente della giacca vecchia. Quindi dovrei andare a riequipaggiarmi l'altra. Se non me la sono messa da qualche parte. Sì, infatti qua mi dice che ci sono le cose nella giacca vecchia che ho tolto. Ok, no, posso trasferire questo. E mi sono vestito più da militare adesso. Quindi sarei dovuto scappare. Comunque lo stato della mia forma adesso sul metabolismo è... Vediamo, la salute non è buona perché ho frutture C2 sanguinante. E sto perdendo vita. Sto perdendo sangue, tanto. E avrei bisogno di una benda. Vedete, il blood volume sta scendendo. E... Poi... Posso vedere se c'è qualcosa da mangiare, qualcosa di... Per curarmi. Ma in questo caso non dovrebbe esserci nulla. Perché da quello che ho visto non c'è per terra nulla. La parte qua che... No. No, 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 no. Vabbè. Questo è stato giocato un po' lo sbaraglio. Se avete qualcuno magari da consigliarmi per andare a imparare, a giocare, a sopravvivere. Il gioco lo reputo. Parere mio, ovviamente. Mi ha responsabilità su quello che dico, però un parere mio. Uno dei più profondi giochi di sopravvivenza. Dei più tosti. Ecco. Non è il classico che dopo dieci minuti state già mettendo giù le foundation e le pareti. Cioè, questo era tosto. Tosto tanto. Probabilmente in single player non ce lo si gode al massimo. Ma attendo un vostro parere. Ragazzi, io con questo vi saluto. Vi invito ancora una volta. Lasciatemi un commento sotto. E alla prossima. Ciao, ciao.